Sono attualmente presidente e organizzatore insieme al dottor Pietro Cavaliere, mio co-presidente del 107esimo congresso nazionale della SIOT, che è un grosso contenitore dove si parla di tantissime tematiche relative all'ortopedia e alla traumatologia. Per quello che mi riguarda più di vicino, che è più vicino alla mia attività professionale, ho organizzato sessioni che riguardano la chirurgia ortopedica robotica, con una sostituzione protesica di anca e ginocchio con il robot, in particolare il ginocchio, perché è effettivamente uno dei temi più in voga attualmente, più hot, più calli, perché si sta diffondendo sempre di più. La chirurgia robotica non è una chirurgia fatta da robot, ma i robot, che sono braccia meccaniche con un alto contenuto di software e di intelligenza artificiale, aiutano il chirurgo a pianificare l'intervento e aiutano il chirurgo ad eseguire con estrema accuratezza le resezioni osse e quindi l'impianto della protesi, a favore di un beneficio per il paziente in termini di qualità di risultato e di durata nel tempo del risultato. Si sta parlando attualmente di diversi tipi di allineamento dell'arto inferiore, perché in buona sostanza si è riconosciuto che mantenendo l'allineamento originale del paziente, il più possibile vicino all'elemento dell'arto inferiore originale del paziente prima dell'artrosi, si possono avere risultati migliori. Questo è permesso e concesso solo con l'utilizzo di queste tecnologie come la robotica o anche la navigazione, che poi è sempre facente parte della robotica, che aiutano i chirurghi a conoscere meglio il ginocchio che stanno operando.